Gli uomini scappano di fronte a una donna forte e indipendente? No, o meglio, non sempre. Chiariamo una volta per tutte questo concetto. Ah, spoiler, te lo spiegherò in modo approfondito nel mio prossimo libro. Comunque ci sono 5 tipi di uomini. Ci sono quelli che hanno paura delle donne forti, perché sono fragili e insicuri, non si sentono all'altezza e hanno paura di perdere il controllo nella relazione. Poi ci sono quelli a tratti ma manipolativi. Sono quelli che tendono a sfruttare le tue qualità per un proprio vantaggio personale. Sono di solito molto invidiosi e cercano di sminuire e di controllarti per mantenere una sensazione di superiorità. Poi ci sono gli uomini con bassa autostima che sono anche accomodanti. Sono quelli che lasciano che la donna prenda tutte le decisioni e tutte le iniziative. Questa vita loro va comoda. In alcuni casi questa può essere anche una strategia inconscia per evitare conflitti e responsabilità. Poi ci sono gli uomini che non soltanto accettano ma anche rispettano e ammirano la forza e l'indipendenza di una donna. Loro cercano un rapporto basato sulla paridignità, dialogo aperto e supporto reciproco. Di solito hanno una solida educazione e hanno comunque già avuto esperienze positive con donne autorevoli. Infine ci sono gli uomini che trovano ispirazione dalle donne forti e usano questa ammirazione come stimolo per migliorare se stessi e la relazione. Loro non vedono la forza come una minaccia ma come un'opportunità e una risorsa. DREAMS ARE MY REALITY Loro non vedono la forza come un'opportunità. Loro non vedono la forza come un'opportunità. DREAMS ARE MY REALITY